pronto ma no ma non si fa niente no no assolutamente non c'è nessun progetto all'orizzonte credimi ma non è che da retta a quello, si figura di se io non ho idee da sviluppare dai ma non è quello e non me ne fanno fa siamo vecchi questa è la verità oh scusa c'è un'altra chiamata scusa c'è un'altra chiamata mamma mia mi stanno chiamando tutti oggi pronto arianna ma quel coglione ha detto una cazzata non è vero niente ma non è vero non si fa ma non ci facciamo illusioni anzi dillo anche agli altri per cortesia va bene non si fa niente ciao arianna a presto ciao ciao